Ciao, oggi pensiamo alla Pasqua. Ho inventato un modello di marionetta a dita a forma di colonna. Ecco le piegature necessarie per far incastrare la sagoma nel rigatore. Spilliamo leggermente questa piegatura lasciando la testa libera di muoverci un po'. A questo punto con colla a freddo o a caldo i bambini stessi possono applicare gli occhi e il becco precedentemente fatti con la plastigina. Infine realizzeranno e appliceranno due foglie di un libro. Ecco la marionetta che può anche servire per parlare della pace o recitare una piccola poesia. Possiamo anche usare degli occhetti adesivi e far colorare il regatone con tempera bianca. Buon divertimento!